Tutti ci sono proprio tutti, non manca più nessuno, son tutti a casa mia Tutti ci sono proprio tutti, non manca più nessuno, son tutti a casa mia Santino! Amore! Ehi! Amore, amore mio! Ascoltami, adesso io sto pulendo Ti amo anch'io, ma adesso non c'entra niente Ho sbagliato, scusa Amore, ascoltami! Sei la donna della mia vita Guardami! Amo tua madre Allora, senti, Santino, te lo dico adesso Tuo padre è un grande? Sei la cosa più importante che io abbia mai avuto Amore, io adesso devo spolverare un pochino qui perché deve arrivare un ospite, capito? Quindi non mettere in disordine, capito? Come al tuo solito, che metti sempre in disordine ogni volta che io metto in ordine Io metto in ordine, tu stai lì fermo, ok? Perché deve arrivare un ospite, un artista Un artista, quindi mi raccomando, non facciamo brutte figure perché io ci tengo Non so tu, ma io ci tengo Scusa, amore! È un piacere vivere con te! Quanti anni sono di matrimonio? Ah, non te lo ricordi? No, era una domanda a trabocchetto Non te lo dico Figurati se non mi ricordo quel bellissimo oggetto E chi su scordo? Figurati, amore Anche perché abbiamo tutti gli amici in diretta qua Perché io volevo stare tranquillo, guarda Tu non puoi capire? C'è Raffaella Conte che sta scrivendo Ma sei piena di persone normali, veramente Chiamo Raffaella Dall'altra parte, non tu, qua sono normali, vedi, vedi, vedi Auguri Roberto e Roberta, che succesimo Auguri Roberto e Roberta, ciao Auguri Come va? Come va? Il bello della dire Niente, ma Sì, amore C'è un po' di ansia Chi deve arrivare? Il Papa che sta spolverando Deve arrivare un mio amico Che ti ho detto è un grande artista Quindi mi raccomando, io me ne vado Però tu, così come lascio, così voglio trovare dopo Perché è un momento importantissimo Lo sto aspettando questo momento da tanto tempo Quindi mi raccomando, non mettere in disordine Va bene? Ok, sto chiedendo troppo? No, mettiamo Mi raccomando Quando uno si sposa perché è convinto Ah, sono due allora Vabbè, ciao amore Una battuta Quando fate un applauso a mio amore Chissà non torna più Grazie 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 Grazie